Questo codice a barre dal 1 luglio sarà il nostro lascia passare per tornare a fare ciò che facevamo fino a un anno e mezzo fa. Viaggiare in Europa, ad esempio, andare a una festa di matrimonio, partecipare a un congresso o fare visita a un parente in una struttura sanitaria. Per dirla con due parole, inglesi, Green Pass. È gratuito e digitale, ma i meno tecnologici possono stamparlo con l'aiuto del medico di base. Prima di tutto vediamo chi ne ha diritto. Viene rilasciato a chi ha completato il ciclo vaccinale e vale circa nove mesi, a chi ha effettuato la prima dose da 15 giorni ed è valido fino alla successiva, a chi è risultato negativo a un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti, a chi è guarito dal covid nei sei mesi precedenti. Chi ha uno di questi requisiti riceverà un codice via mail o via sms ai contatti che ha comunicato in sede di vaccinazione o tampone. A chi si è vaccinato nei mesi scorsi, il governo manderà il codice in questione nei prossimi giorni. Detto ciò, prendete il codice e lo inserite, se l'avete scaricata sul vostro smartphone, nella app Immuni, assieme al numero e alla data di scadenza della tessera sanitaria. E il gioco è fatto. Vi arriverà un QR code, il famoso codice a barra e il famoso Green Pass. Oppure, se avete un'identità digitale, il cosiddetto Speed o la carta di identità elettronica e il relativo PIN, potete scaricare la certificazione verde senza bisogno del codice attraverso il sito attivo da ieri dgc.gov.it. Anche se non avete una identità digitale, potete scaricare dallo stesso sito il certificato verde, inserendo i dati della tessera sanitaria e il codice ricevuto dal ministero via sms o via mail. Si può acquisire il pass anche dall'app Io, e su questa non serve il codice, oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale. Infine, i più reticenti alla tecnologia si possono rivolgere al medico di base o alla farmacia, muniti sempre di tessera sanitaria. Per qualunque dubbio c'è un numero da chiamare ed è 891 24 91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Green Pass è un passo che serve per andare a fare le vacanze, diciamo, allontanarsi dalla propria regione e all'estero. Dopo le vaccinazioni ti dovrebbero dare un documento o qualche cosa. Noi abbiamo già il certificato della doppia vaccinazione. Bisognerà scaricarlo però, mi immagino, perché come fanno a sapere che io ho fatto le due dosi del vaccino. Serve per andare in vacanza, per riuscire ad andare in altri paesi, in altri stati. Lei pensa di procurarselo? Penso proprio di sì. Assolutamente, perché mi interessa spostarmi e vaccinarmi soprattutto. Non mi serve, non serve proprio. Non ho intenzione proprio di partire. Non mi sono informato perché in questo momento non mi interessa, perché non ho proprio intenzione quest'anno di muovermi per andare all'estero. Penso sia l'unico modo per sbloccare un po' il turismo. So che si può avere anche solo dopo la prima vaccinazione, che si può avere anche se si fa il tampone, ritengo che sia una presa in giro. Credo che sia normale che ognuno di noi che fu completamente vaccinato riceva questo Green Pass. Il Green Pass è una limitazione della libertà. Che se una persona sta bene è perché deve sottoporsi a un altro documento. Il Green Pass lo so più che altro perché mi devo sposare. Dovrà fare uso della tecnologia perché c'è un QR code. Beh, per noi giovani è facile, magari per una persona un po' più anziana no.